buongiorno blogger questo è il bagno accessibile alla stanza dove abbiamo fatto viaggio in nozio di mia moglie il bagno non è alto come quelli italiani e non ci sono le sbarre come quelle italiane ma c'è i maniglioni questo vedete non è alto e basso e super giù come quello italiano questa è la doccia senza gradino con la doccia al muro anche la ci sono i maniglioni questo è il sedile dove si può sedere per fare la doccia si può spostare ovviamente il lavandino lo mostrerò perché adesso sono in thunder riprendiamo a registrare scusate questo è dove mettere asciugamani mi giro per far vedere il lavandino adesso mi sono rivestito in questo lavandino ciao e questo è sotto il lavandino ci sono i tubi rigidi e andiamo in cammin nella camera proprio come vedete la camera è bella larga spaziosa la c'è mia moglie nello specchio che sta facendo il letto questa è la carrozzina vabbè saluta ciao e questo è lo spazio per passare con la cella dove si può stirare e qua è sufficientemente largo per portare la carrozzina la dove avete visto e questo è la porta d'ingresso è molto accessibile siamo al 21esimo piano questa è la stanza 21 24 ciao